Sono ancora gravissime le condizioni della mamma di Lisa Baldini, la donna di 32 anni, morta domenica scorsa dopo essere rimasta coinvolta nello scontro tra due auto avvenuto all'incrocio tra via Picasso e via Viottolo di Mezzana. Entrambe le conducenti sono indagate nell'inchiesta per omicidio stradale aperta dalla procura di Prato. Il sostituto Lorenzo Boscaglia ha chiarito che è solo una formalità all'iscrizione della donna cinese che era la guida dell'Audi Q3 che ha travolto la 32enne, una formalità finalizzata da accertamenti sulla velocità. Le immagini delle telecamere installate in via Picasso infatti mostrano chiaramente che l'auto è piombata sul marciapiede